Ascolti TV ieri sera 1 novembre 2022. Chi ha vinto le Iene, il Collegio 7, Sopravvissuti e Canale 5? Dati Audit e Lescer. Ecco gli ascolti TV di ieri martedì 1 novembre 2022. Quanto ha fatto la quarta puntata del Collegio 7 in onda in prima serata su Rai 2? Ecco tutti i dati di ieri compresi di Cher. Leggi anche, il Collegio 2022, chi è la voce narrante quest'anno? Addio a Giancarlo Magalli, ecco chi è Ascolti TV di ieri, martedì 1 novembre 2022. Chi ha vinto tra Canale 5, Rai 1, Italia 1 e il Collegio 7? Chi ha vinto la sfida dell'Auditel tra la Fiction Sopravvissuti, la quarta puntata del Collegio 7, la partita su Canale 5 e la puntata delle Iene? Di seguito tutti i dati, i dati verranno aggiornati dopo le 10. Il Collegio 7 Cast concorrenti 2022, chi sono gli alunni? Ecco la lista dei nuovi 20 alunni concorrenti dei Collegio 7 che hanno varcato le porte del tempo e verranno catapultati nel 1958. Alessia Bruscia Elisa Angius Sofia Brixel Marta Maria Enriquez Zelda Nobili Priscilla Savoldelli Giulia Unekovic Luna Tota Giada Scognamillo Alessandro Orlando Davide Cagnes Alessandro Bosatelli Mattia Camorani Davide Di Franco Apollinaire Manfredi Tommaso Miglietta Mattia Patanè Gabriel Rennis Damiano Saveroni Samuel Rosica Cosa C'è Stasera in TV? Lo scontro a colpi di Ascolti TV di stasera, invece, vedrà l'eredità su Rai 1 e 70 l'evento dedicato a Renato Zero su Canale 5. Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi TV, gli ascolti e le curiosità sulle nuove fiction italiane cliccando qui.